American Graffiti è un film del 1973 diretto da George Lucas con Richard Dreyfuss, Ron Howard, Cindy Williams ed Harrison Ford. Il film è un omaggio ai ragazzi degli anni 60, un film nostalgico e malinconico che ricorda a George Lucas la sua gioventù. Il film non è altro che la storia idealizzata di alcuni ragazzi della provincia americana che trascorrono le serate tra macchine, musica e locali in cerca di qualche cosa di stupido o divertente da fare. Curiosità, l'Universal Film fece un contratto con George Lucas per produrre due film. Produsse American Graffiti ma si rifiutò di produrre il secondo perché è eccessivamente costoso. Il secondo era Guerre Stellari. Laffi, l'American Film Institute, nell'elenco dei 100 film americani migliori di sempre l'ha posizionato al sessantaduesimo posto. Grazie. Grazie.